Giulio Trevisan, una bella chiacchierata davanti a tutti per questo centenario, però bisogna essere compatti, uniti e programmare il futuro. Ma sì, diciamo che questa è una bellissima occasione, la società fin dal momento iniziale ha dato il suo appoggio alla creazione di questo comitato perché noi crediamo che da questo comitato ci possa essere di nuovo una nuova primavera per i colori non solo del Chieti ma anche della città perché come ho detto nel mio discorso, diciamo che i colori nero-verdi sono rimasti veramente l'ultimo simbolo, l'ultimo baluardo di questa città che in questi anni ha perso troppe cose e quindi riavvicinarsi intorno a questi colori per ricordare la nostra storia e ricordare anche la nostra esistenza fondamentalmente credo che sia un momento molto felice e positivo che la città può di nuovo rivivere. Dal passato, dalle radici al futuro immediato, intanto una battuta su ventola? Ma vabbè, diciamo che noi eravamo molto attenti alle possibilità che il mercato stava offrendo Cristian è un ragazzo insomma di cui valore è conosciuto da tutti avevamo bisogno di alzare in qualche reparto il tasso tecnico della squadra e ben volentieri insomma abbiamo fatto entrare nel nostro progetto tenendo conto che è la prima volta che lui scende in Serie D dopo anni di Serie C e Serie B.